Mamma mia amore, non vedevo l'ora di fare questa crociera, sono davvero stanchissimo, sarà un viaggio stupendo, guarda che nave! Sì, che bello, la crociera è sempre stata il mio sogno, lo sai? Eh sì, speriamo che non è quella di Schettino! Speriamo che non è il Titanic! Speriamo che non è il Titanic, esatto! Madonna santa, già partiamo bene e ce la stiamo tirando! Dicono che in crociera si ingrassa molto! Eh, vediamo! Perché si mangia tanto ragazzi! Ma io mi ingrasso anche quando non sto in crociera! Stiamo partendo, eh! Ciuf ciuf! Quello è il treno! Ah, quello è il treno! Stiamo andando in crociera! Ma guarda che bella! Mamma mia, senti! C'è una festa! Wow! Che bello! La piscina, raga! Una festa a bordo piscina! Mamma mia, tu ami la piscina! Tu ami la piscina! Sì! Mi è costata una fortuna questi biglietti! Amore, ce le meritiamo! Eh, lo so, erano gli ultimi biglietti rimasti a Robloxia! Adesso io voglio fare un tuffo così, vestita! Via! Ah, ma che bella! E vabbè, tuffo, 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 tuffo! Uh, guarda questi pop corn! Ma sta inquirando al mare! Ok! Effettivamente! Andiamo! Ah, qui si mangia! Oh! Ci vediamo dopo! Ci vediamo dopo! Rums! Rums! Ecco, ecco, Rianno! Seguici! Non diverso! Oh, ho dei soldi per te, Rums! Che che si è scordato i soldi per te? Io anche! Ehi, della, della, eccoli dell'altra parte! Guarda! Ma qui ci sono proprio dei ricconi che lasciano tutti questi soldi per terra! Sembra troppo strano! Che stanza ci prendiamo? Forse, non lo so! Esclora! C'è scritto esclora! Io prendo la 105! No, io prendo, dobbiamo fare tutti insieme! Ah, è vero, è vero! Aureliano, io neanche tu! Guardate che bella vista a mare! È vero, bella! Non mi piace a me! Mamma mia, che bella! Ma tu lo so a filmare, se è stato a filmare di mare? Io, io un pochetto sì, però devo dire che su questa nave non si sente tanto! Sto soltanto per vomitare! È l'ora di giocare ad un gioco! Io ora nasconderò un item casuale, un oggetto casuale! E noi lo dobbiamo riportare da lui! Va bene, Jack! Cosa fa? Giochi di gruppo? Vuole fare qualcosa di cosa, no? Un ticket dorato! Un ticket dorato dove lo troviamo? Madonna, dove lo troviamo? Madonna, qui! Non voglio studiare qui! Dove sei? Sono andato ancora più sotto le stanze! Ci sono pure gli arcade! Aspetta, dove sei? Sono solo giochi! Dove sei? C'è pure una sala giochi! C'è una mazza da baseball! Perché dovrei comprare una mazza da baseball? Oh, golden ticket! Questo Jack non mi piace! Non lo so, neanche a me, non mi convince! Sa sempre lì a ballare! Sembra che si è preso qualche droga! Ma qua questa nave non c'è nessuno! È un maranzo! Strano, eh? Eh sì, ci sono loro noi! Però ho chiesto io l'esclusiva, eh! Ti volevo tutta la nave per noi! Ah, chi sa, quanto è pagato! Eh, eh! Ah, i soldi, allora? Eh, ho venduto un rene! Non ho più un rene, però! Adesso ci possiamo fare questo giorno, guarda, possiamo fare anche lavoro in piscina! Sì, ma adesso basta, cioè, voglio dire! Ah, sì, 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 hai detto solo il ticket! Ha detto che era l'ultimo, hai fatto! Ok, è sera, eh! Ma adesso possiamo andare a dormire, check! È notte adesso, è l'ugliamo, check! Io quando viene notte mi inizia un po', gli ormoni si iniziano un po' a fare caldi! Poi siamo qua in piscina, ah, ci dice che c'è un buffet! Ah, possiamo prendere il cibo? Eh, sì, c'è un buffet tutto per noi! Eh, c'è pure la pizza con la salsiccia! C'abbiamo 10 secondi! C'abbiamo 10 secondi! C'abbiamo 10 secondi, questo è un buffet veloce veloce! Non possiamo, dobbiamo mangiare subito subito! Guarda, check, ma c'è solo Jack! Ma c'è la cura solo Jack, quindi! Ok, mettiamoci qua seduti! Questo ho preso questo tavolo per noi, vieni! Io ho già preso la pizza! Ah, ma tu l'hai presa da lei! Ma l'hai pagata! Ma la pizza è gratis! Ah, ciao! Ah, l'hai pagata, vabbè, vabbè, vabbè! Guarda che abbiamo... Vabbè, ok, dobbiamo trovare, vieni, dobbiamo andare nella nostra stanza! Ma neanche c'è dato il tempo di gelare! Eh, lo so, eh, lo so, Jack è così! Ma che cosa è fatto? Eh, è una crociera! Questa è una crociera stravagante, ci dice che dobbiamo andare a dormire! Ce lo dice lui! Guarda che corridoio brutto, sembra quello del Titanic, veramente! Chiudi la porta, chiudi la porta! Mi metto vicino a te, vabbè! Eh, mi sai di nuovo, mi sai con il letto per uno! No! Eh, vabbè, poi dopo ci accomuniamo, appena va a dormire Jack, che c'ho paura che ci spia! Fa tutto lui! Fa tutto lui! Domani ci sarà una cena con il capitano, ragazzi! Pensavo che eri anche tu il capitano, Jack! Non sarà lui! Non sarà lui! Buonanotte a tutti! Buonanotte! Buonanotte, Jack! Perché abbiamo trovato quei soldi gratis? Non lo so, questo non lo so, eppure perché ci ha fatto mangiare così veloci? Ora c'è tutto, 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 che cos'è? Che cos'è questo rumore? Che cos'è questo? Cos'è questo? Il mio presentimento non era sbagliato! Mannaggia, l'ho pagata anche un fior di quattrini! Andiamo, guarda fuori dalla violenza! È una nave fanta... È una nave pirata! Ci stanno attaccando dei barbari! Oddio, no, sono dei pirati! Oddio, oddio, è un messo che mi ricordo! Ok, andiamo ad avvertire il capitano! Non c'è... Non c'è corrente sulla nave! Dobbiamo andare nel generatore di corrente, stava qui! Eh, però aspettami! Non lo ricordo, no, qui era il cesso! Era qui il generatore di... Oddio! Che? Oddio, è lui! Che c'ha? Che ha fatto? Probabilmente c'è un danno al generatore, scusatemi! Ma che danno? C'è una nave aliena fuori! C'è una nave fantasma! Siamo spaventati, Jack! Non mi rovinare la vacanza con mia moglie, eh! Che ti appiccica il muro, Jack! Ti faccio diventare... Che cosa sta dicendo? Ha detto che sta provando ad aprire la stanza... Ma ha perso la chiave! Ha perso la chiave! Ma sei un... Unicchiobile! Unicchiobile elettrica! Cioè, la chiave con la scheda! Esatto! Nel bagno! Nel bagno, penso! No, io non gli credo a queste! Non gli piace! La pensa nel bagno! Dove l'ha fatta? La cagata! Cos'è? Oddio, chi pitman! Oddio, ma cos'è questo str... Questo... No, 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 no! Non possiamo neanche tornare sulla terra ferma! Ho trovato la chiave! Si è fermata a cagare! Oddio, oddio, scusa! Scusa! Scusa, ma mi sto cagando sotto! Devo fare un attimo una cosetta! Va bene, li metto sopra di te! Va bene, la facciamo insieme! Va bene! Tu la fai sopra di me, io la faccio nella tazza! Ecco, c'è un'altra! Due! Due chiavi! Vai, Jack! Ce ne abbiamo due! No, una! Apri quella stanza e ripristi nella corrente! Non ci poteva andare Jack a prenderla! Eh, infatti! Cioè, sei andato tu a cagare, c'era pure ancora la buzza! La porta ora è sbloccata! Andiamo! Oh, mio Dio! Che si sta facendo entrare a noi? Ah, ok, attenta! Attenta che ci sono in là! Oddio, no! Aspetta, mi si è presa la scossa! Aspetta! Devi passare quando ecco così! Lo ripristino io! Ok! Andiamo! Ok, possiamo uscire senza passare ora! Che cosa si nasconde in questa nave, amore? Il mistero! Si sta facendo fitto! Ti va di cercare di risolverlo! Certo! Noi che siamo tipo... Cioè, sceghi scubidù! Ricorda che ce n'eremo con il capitano domani! Torna a letto! No, ma cosa vuoi? Ma guarda che tipo! Oh, amaranza! Amaranza! Amaranza, coglioni! Ma sono faccia a faccia, eh! Cosa so! Che ti fai tanto il grosso, fai! Arrivato! Sei dato una lattina di fagioli! E poi ci ha fatto fattuto a noi! Una lattina di fagioli! Sto biondino ossigenato! Per me questo capitano nasconde qualcosa di strano! Non me la raccoglie! Non lo so! Non so cosa potrebbe essere! Buongiorno a tutti! Buongiorno amore! Buongiorno! Buongiorno! Stasera ce n'eremo con il capitano, lo sai? Forse vediamo che cosa nasconderà! Che cosa ci mettiamo? Oh, io mi metto questo! Non lo so! Sono indecisa! Forse quello rosso è troppo... Io mi metto questo! Io metterò questo rosa! Io lo sai che sono un tipo un po' bizzarro! Ma cosa? Ma non lo va a vedere! Anche a me! A me me l'ha messo sotto! No! Che brutto! Ce l'ha messo sotto! Ce l'ha messo sotto! Sei bella comunque! Sei bella comunque! Grazie! Devo dirlo! Devo dirlo! Devo dirlo! Ok! Dobbiamo andare nella stanza dell'arcade! Dove abbiamo trovato il biglietto! Era qui però no? Era di qui sì! C'hai ragione tu! Vai! Questa stanza è divertente! Io... Uh amore! A questo ci giochiamo sempre quando andiamo alla sala giochi! Sì è vero! Quando andiamo al giochi! Che è successo? Sono spente tutte! Mi sono spente tutte le macchine! C'è una luce verde! Oddio! Di nuovo! Oddio! Io andrò! Figa! Figa! Chi è questo? Oddio! Oddio un fantasma! È un fantasma! Dove è? Non voglio prendere la mamma! È il pirata! Io so! Ridammelo indietro! Che cosa ti devo ridare indietro? C'è un solo... Ah! Ah! Sta dentro! Oddio! Che cazzo! Scappa! 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 Dobbiamo sopravvivere! Dio! Che cosa ti devo ridare? Non ho niente! Siamo perseguitati dagli spiriti determinati! Amore! 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 È chiusa! Scappa! Scappa! Attenzione! Ah! No! No! Lasciate stare mia moglie! Lasciate stare mia moglie! Speriti di pirati! Che cosa vuole? Che cosa vuole questo fantasma? Dobbiamo darglielo assolutamente! Oh! Oh! Ce l'abbiamo fatta! Questa è la tua ultima chance! Ridammi indietro il biglietto d'oro! Eccolo! Stava qua il biglietto d'oro! Prendilo! Dove? È questo! Dietro! Non me lo fa prendere! Era quello! È Jack quindi! È Jack ci ha chiesto il biglietto d'oro! Eh sì! C'entra qualcosa! Cos'era quello mamma mia? Non ce la faccio! Cioè dobbiamo assolutamente risolvere questo mistero! Ci perseguirea per tutta la vita! Forse Jack! Forse Jack ha... Ha rubato il tesoro ai pirati! Esatto! Dobbiamo andare subito alla cena del capitano e parlarne con loro! Ok! Ho preparato un pollo arrostito! Mangiate prima che si freddi! Ma io sono vegetariana! È vero! Vabbè mangialo! Ti recupero un po' di salute! Oddio no! Mi sta allevando la vita! Mi sta allevando la vita! Non lo mangià! Vedi che a volte assomiglia al signore che ci ha chiesto il golden ticket! È vero! Infatti ho mangiato il pollo ma ho levato la vita! È avvenenato! Che sta succedendo? Oddio! Scusatemi! Non dovevate prenderlo! Oddio! Quindi il capitano? E anche il fantano! Non sto capendo bene! È un mistero! Dobbiamo... Oddio! Anche il poverino Jack! Pure Jack! Io pensavo che era Jack! No! Jack! La notte che la corrente è andata via Noi abbiamo trovato il biglietto dorato E il capitano ha chiesto a me di trovarlo E poi mi sono ricordato che mi sono svegliato qui Noi abbiamo incontrato dei mostri pirati! Dei fantasmi pirati! Che volevano il golden ticket! E il capitano ci è imprigionato avvelenando il pollo Molto probabilmente con il pollo, sì! Eh sì? Ma io non l'ho neanche mangiato! Mi sta facendo anche cagare sotto questo pollo! È incredibile! Abbiamo bisogno di ritrovare il biglietto dorato E ridarlo indietro ai fantasmi! Va bene però prima fatemi fare la cagata! Ma noi l'abbiamo dato a lui il biglietto! Eh ma lui l'ha dato il capitano! E poi il capitano l'ha fatto risvegliare qui! Capito che cosa ha fatto? Ma allora perché ce l'ha chiestato? Una pazzata è successo! Ok vedi eccola l'ho presa! Aspetta dai! Oddio! Madonna! Oddio! Madonna! Madonna! Dove ce l'aveva? Spero non in quel posto! No serve la chiave blu per farlo uscire! Dove sta la chiave blu? Vediamo vediamo! Sai che me non convince Jeff! Continuo a non convincermi! Dici di no! Dici che pure lui! Ok ho preso la chiave blu! Dici che pure lui è un... Che c'è qua sopra? Dove? Oh guarda! Una stanza misteriosa! Guarda quanti soldi! Oddio! Oddio! Una stanza misteriosa! Io dove sono finita? Madonna! Ho preso anche un percchio! È lui! È il mostro! No! Un'altra volta non ce l'abbiamo il biglietto dorato! Ce l'è il capitano! Ma fatela prendere col capitano! Io sono Greenbird! Il capitano della perla oscura! Andiamoci a nascondere lì! In quel posto? Tu hai rubato il mio tesoro! Non siamo stati noi! Io ve l'ho forzato a fare una vacanza! Ed ora morirai! Oddio! Ho fatto esplodere tutto! No! Sta allagando la nave! Dobbiamo attivare i quattro bottoni! Per poter aprire la porta! Ok! Dove stanno questi quattro bottoni? Oddio! Qui dove stanno? Ho aperto tutto e non ho aperto la breccia! Ci penso io amore! Tu rimani al sicuro! Ci penso io perché è pieno di mostri! Sicuro? Sì! Lo faccio! Aaaaaaah! Qui si deve aprire questa porta! Guarda io sono qui! Ti manca un bottone! Ti manca un bottone! Io sono già dall'altra parte! Sta qua! Guarda! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Sei stata bravissima! Stavo per affogare! Dove sei? Dove sei? Sei stata bravissima! Cos'è questo? Jack che sta! Stai ancora guardando la porta! Oh! Svegliate! Guarda! Guarda che faccia che c'ha Jack! Oddio! Ma lei si spia! Sì sì sì! Chi che ci spia? Il capitano! Sì! Oddio! Cosa? What? Ok! Dobbiamo assolutamente uscire da questa nave! E mi sa che per uscire da questa nave abbiamo bisogno della chiave rossa! Abbiamo un problema! Esatto! Non abbiamo la chiave rossa! Si trova proprio dove... Nella cabina del capitano! Come facciamo a prenderla Jack a scappare da questo incubo? Ah ok! Dobbiamo andare che si installa pure qua! Jack! Dove andiamo? Dobbiamo andare nella cabina del capitano e trovare la chiave rossa! Oddio! Ci sta allagando tutto altro che Titanic! E' peggio! Moriremo affogati! La morte è più brutta! Eccola lì! Cabina del capitano! C'è il capitano! Shhh! Fammi prendere la sprenca! Ah! Ho dedicato la mia vita a stare su questa nave e trovare il tesoro! Eccola! La chiave rossa! L'hai presa! Prendila! Prendila! Ora voi state sulla mia nave! E io sto sul mio tesoro! Ok! Che cosa decidiamo di fare? Lasciamo il capitano e prendiamo la chiave? Oppure prendiamo la collana del capitano? Che sarebbe il tesoro che ha rubato i pirati? Che cosa facciamo? Decidi! Oddio non lo so! Il primo! Il primo! Va bene! L'hai scelto! Ok! Abbiamo deciso di prendere la chiave e andare via! Darci la chiave allora! Ok! Possiamo prenderla! Ma l'ho presa io! Andiamo! 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 Lasciamo affondare il capitano con il suo tesoro! Poi ci penserà! Ci penserà il fantasma a prendersi lui! Noi pensiamo a salvarci! No! A me mi dispiace di questa vacanza! Mi dispiace di questa vacanza! Pensavo di essere una bella vacanza! È stata una bella vettura però! È stata una bella vetturiera! Dai! Lo sai che con me ci si diverte sempre! Non eravamo saliti da qua! Eccoci Jack! Jack! Amore! Che è stato? Oddio! È tutto allagato! Vai! Jack! Jack! Si chiama anche Jack! Oddio no! Altri zombie! Forse era meglio che prendevamo la collana! Hai deciso! Hai preso la decisione sbagliata! Che pizza! No! Andate da lui! Andate da lui! Vantela a prendere da lui! Ma che la vuoi da lui? Ma ve la dovrete vedere con noi! No! Vantela a prendere da lui! Voi conoscerete poi Seidone! Ma no! Non lo voglio conoscere poi Seidone! Non mi interessa che la... Ha detto che ci ucciderà lui personalmente! Oh mio Dio! Lui è cattivo! E scendi! Lui è cattivo! Scendi! Dobbiamo ucciderlo! Dobbiamo prendere l'ammazzata! Davvero? Sì! Io non... Ah! Ah! Sta per terra! Buh! 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 No! Vantela a prendere da un mio ragazzo! Cattivo! Oddio! Vai! Vintiamolo! Amore! Ma io non mi! Ma che sta per terra! Io c'ho pochino a box! Aio! Dove sono? Aio! Vai! Vistalo! Vistalo! Tu da davanti e io da dietro! Mi facciamo un trisome! Ma che è questa cosa? Oh mio Dio! Vai! Vai! È morto! È morto! Che ne vuoi ancora? Vuoi un'altra e due botte? Vai un'altra e due botte! Vai! Ok! Dice che andrà a uccidere il capitano! Vai! 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 Prima che tiriamo un'altra e due botte! Ti tiriamo un'altra e due botte! Ma spragate! Dobbiamo! Ok! È aperto! Possiamo andare! Scappiamo! Scappiamo! Non abbiamo tempo da perdere! Andiamo! Allora! Vieni qua! Ma poi ci buttiamo nell'oceano! Sali! Corri! Amore! No! Sei morta! Ma perché? Sei morta in quattro! Ti ho bene! Corri! Quattro! Tre! Due! Ok! Uuuuh! Ho paura! Ho paura! Ho paura! Ho paura! Ho paura divenerti! Questo Jack mi ha staccato tutte e se ne va! Ti lascia lì! Ok! Ce l'abbiamo fatta! Quindi? Guarda! Sta affondando la nave! Sta bruciando! Sta bruciando! Che pazzi! Forse abbiamo fatto la scelta giusta! Non lo so! Però so solo che se il capitano aveva rubato quel tesoro non era compito nostro ridarla ai fantasmi! Ma molto probabilmente se noi avessimo ridato il tesoro ai fantasmi poi il capitano avrebbe provato ad ucciderci! Avremmo dovuto fare lo scontro con il capitano! Quindi sarebbe stata la stessa cosa! Mi dispiace che questa vacanza sia andata così però spero che vi sia piaciuta questa avventura! È stata una bella avventura! A me è piaciuta molto! E se questo gioco vi è piaciuto e volete altri replay di famiglia come questo iscrivetevi al canale e mettete mi piace! Questo è stato Cruise! E commentate questo video! Esatto! Questo è stato Cruise su Roblox!